come promesso vi facciamo vedere lo zaino della mandarina dacca che babbo natale ha regalato ad arianna io l'ho trovata in una sacca chiusa eccolo qua lilla colore preferito di arianna allora qua io l'ho chiuso ma l'ho aperto vediamo com'è si gira dentro dentro c'è ci sono due taschine vuote che adesso magari quando vuoto il mare la borracha la vedo dura poi c'è una tasca con la cerniera oppure qua ci sono le taschine laterali vero ari apri assomiglia molto a quello io ne ho uno uguale argento vero ari un'altra taschina laterale e poi ne ho uno blu che trovate nei video uno blu che mi aveva regalato mio marito qualche natale fa qualche natale fa è vero e questo è lo zaino poi ha la sua le sue spallucce regolabili regolabili si e la la famosa etichetta si esatto la targhetta della mandarina molto carino si ad ari piace molto è vero ari lo usi anche per andare a catechismo si è troppo grande fra loro no va bene per te anche perchè si qua ci devo mettere anche il quaderno ragazzi ci sta il quaderno ci sta tutto quello che mi serve la stuccio quello e quell'altro questo è regolabile tiralo ari tira tira eccoci qua quindi per me è perfetto per andare a catechismo magari anche se vi è piaciuto ah e da binari perchè è lilla il mio è il suo colore preferito e l'ha portato papà natale proprio perchè è lilla se vi è piaciuto il video mettete un bel pollicione iscrivetevi al canale per non perdervi nessun altro video attivate la campanellina ci vediamo al prossimo video che vi faremo a vedere la vespa di barbie ciao ciao